Allora cari ragazzi ciao a tutti sto per risolvere il problema 17 della serie 50 questo problema una volta in più dimostra la potenza e l'importanza di fare uno schema ben fatto infatti con lo schema ben fatto il problema non dico che diventa facilissimo ma è sicuramente molto più semplice. Allora il signor X ha ricevuto oggi un prestito di 59.920 franchi allora oggi è qua 159.920 franchi che devo ovviamente restituire mica che babbo natale alla banca con sei rate annue al tasso del 6 e mezzo per cento anno la prima tassa pagabile la prima rata pagabile fra sei mesi quindi allora contiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 anni questi sono gli anni e adesso mettiamo dentro dove deve pagare le rate questo fantomatico signor X sono sei rate la prima è fra sei mesi quindi sei rate annue la prima è qua quindi paga una rata qua una seconda rata qua 2 3 4 5 e 6 allora io devo scoprire quanto vale ogni singola rata allora voglio usare la formula di S perché per lasciare R come incognita se lascio R come incognita tutto il resto della formula lo devo conoscere il tasso lo conosco è il 6 mezzo per cento è nel numero di rate lo so sono sei rate S è il valore della rendita calcolato qua e non lo conosco so che la rendita deve valere 59.920 franchi qua ma qua non posso saperlo però basta calcolarlo prendo sti 59.920 franchi li porto avanti di 1 2 3 4 5 anni e 6 mesi 5 anni e mezzo quindi porto avanti 59.920 franchi al tasso del 6 e mezzo per cento per 5 anni e mezzo qui posso scrivere direttamente 5,5 se però avete difficoltà a capire questa cosa contiamo i giorni 5 anni e mezzo sono 1980 giorni fratto 360 che comunque è la stessa roba è 1980 fratto 360 è la stessa roba di scrivere 5 anni e mezzo 5,5 indifferente guardate voi se volete scrivere questo o 5,5 beh viene fuori 84.721 e 69 questo significa che qui in questo momento all'atto del pagamento dell'ultima rata la rendita vale 84.721 e 69 scusate il pasticcio che è esattamente quello che mi mancava da mettere dentro al posto di S 84.721 e 69 uguale r che non conosco 1,065 elevato a 6 meno 1 diviso 0,065 risolvo questa equazione facile e trovo il valore di una rata 11.993 e 90 finito ciao al prossimo